Salve a tutti ragazzi e bentornati al Lockup Io sono Padman e sono qui con un nuovo snapshot Il 13W07A Questo snapshot c'è ancora meno cose dell'ultimo del 6A Perché? Si basa sempre sulla luce Adesso questa torre ve la faccio vedere a cosa serve Si basa sempre sulla luce E ci sono bug fix per quanto riguarda la luce Ovviamente Ovviamente Purtroppo direi più che ovviamente Sto a ripristare il muro, sto alle scatole Ovviamente le montagne alte Non sono state ancora sistemate le ombre sotto le montagne In queste cavità di questo bioma Molto bello Quindi se spawnate in quel bioma vedrete comunque l'ombra sotto E quello purtroppo dobbiamo ancora aspettare In questo snapshot diciamo che è il primo snapshot veramente considerato inutile Perché non c'è veramente niente di nuovo Però ho notato Oltre al fix un po' della luce Un piccolo fix Io sono qua in alto Questa torre Mi è già capitato magari quando sono in creative Di scavare verso l'alto Di rompere e di piazzare torce C'era un bug grafico In cui se noi picchiavamo contro il soffitto E posizionavamo una torcia sul soffitto La torcia ovviamente si posizionava di lato Ma il blocco qua sopra rimaneva buio Invece adesso vediamo perfettamente la texture della sandstone Luce soffusa Io metto anche luce soffusa off Ce la tolgo Io punto verso l'alto Piazzo una torcia E come vedete rimane comunque sempre chiaro Un primo accorgimento Una prima cosa che mi fa molto piacere Che hanno aggiornato E spero che ne risolvano molti altri di questi bug Per quanto riguarda tutto il resto Non sembra avere ancora Non sembra avere dei bug E questa era praticamente una settimana In cui poteva uscire benissimo la pre-release La pre-release è la data come uscita Non c'è una data fissa Ma è stato detto che dovrebbe arrivare Verso la fine di febbraio Siamo al 14 Siamo a metà Mancano due settimane Quindi è prevista più o meno la prossima settimana Una pre-release Cioè la pre-release della prossima settimana La settimana dopo la 1.5 Non ha molto soddisfatto questa cosa Ma iniziano i fan Diciamo prima di tutto Iniziano a parlare della 1.6 Nella 1.6 dicono che Sarà un nuovo aggiornamento D'avventura Ovvero Miglioramento dei biomi E alcuni biomi che non Che non erano ancora usati adesso Che brutto albero E niente Quindi per questo snapshot C'è solo Piccoli bug fix E piccoli ricostruzioni della luce Perché la vogliono ricostruire completamente Quindi magari Arriverà una versione B Di questo snapshot Per nuove Per nuovi aggiornamenti della luce E la prossima settimana Finalmente la pre-release Io vi saluto Un piccolo snapshot Ma per piccole cose La skin che ho è per un progetto Che poi vedrete sul nostro canale Io vi saluto Quindi qui da Padman è tutto Un saluto dal LOL Club E Il sole Il sole Ciao a tutti Ciao a tutti